è troppo pesante questo pacco io non riesco a trasportarlo mi mancano ancora pochi metri ma non ce la faccio riproviamo no è impossibile ma perché mi hanno preso per Hercules io adesso guardo cosa c'è scritto in questa lettera e guardo anche cosa c'è dentro al pacco tanto poi lo richiudo non se ne accorge nessuno per gli amici delle abben tube ma cosa proviamo a guardare dentro buon natale ma chi sei ma cosa si fai lì dentro io sono il regalo io e Ale volevamo fare ai nostri amici delle abben tube un regalo che fosse carino dolce simpatico sexy e molto divertente allora avete cambiato idea oh babbo natale ma io ti mando a fare la renna beh ma ma queste sono proprio corne da renna così impari a far arrabbiare una donna e adesso avanti facciamo gli auguri per bene ciao 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 ciao